ok mi dispiace è che sono state delle settimane un po dure Murray si intendo da quando ho ucciso quei tre di Wall Street ok stiamo aspettando la battuta non c'è la battuta non sto scherzando sei serio? stai dicendo che ho ucciso quei tre ragazzi nella metro? e perché ti dovremmo credere? perché non ho più niente da perdere niente può più ferirmi la mia vita è solamente una commedia fammi capire bene tu pensi che uccidere degli uomini sia divertente? certo e ne ho abbastanza di fingere che non lo sia la comicità è soggettiva Murray non si dice così? tutti voi il sistema che sa tutto e ci comanda voi decidete che cosa è giusto o sbagliato allo stesso modo in cui decidete cosa fa ridere oppure no ok credo che potrei potrei capire se tu volessi dar vita a un movimento per diventare un simbolo andiamo Murray ti sembro il tipo di clown che crea un movimento ho ucciso quegli uomini perché erano orrendi tutti in effetti sono orrendi oggigiorno abbastanza da far impazzire chiunque ok quindi saresti pazzo? è questa la tua difesa per aver ucciso tre uomini? no quelli neanche morti avrebbero azzeccato una nota oh ma perché tutti si disperano così per quei tizi? se fossi stato io a morire sul marciapiede mi avreste camminato sopra io vi passo accanto ogni giorno e non mi notate e invece quei tre solo perché Thomas Wayne andava a piangere per loro in tv hai un problema con Thomas Wayne quindi? sì esatto ce l'ho ti sei accorto di come è diventato là fuori Murray? ti capita mai di uscire dallo studio? sono tutti lì a strepitare a urlare l'uno contro l'altro non c'è più nessuno educato nessuno più prova a mettersi nei panni dell'altro credi che uomini come Thomas Wayne si chiedono cosa vuol dire essere uno come me? essere una persona diversa da loro? non lo fanno sono convinti che ce ne staremo lì seduti in silenzio come bravi bambini che non ci trasformeremo in lupi mannari hai finito? come mai tanta autocommiserazione? stai cercando delle scuse per aver ucciso quei tre uomini? non necessariamente sono tutti così orrendi oggigiorno tu sei orrendo Murray io? orrendo? e in che modo sarei stato orrendo? mandando il mio video invitandomi al tuo show volevi solamente prenderti gioco di me sei come tutti gli altri tu non sei un bel niente di me amico guarda cosa ha portato quello che hai fatto cosa ha causato ci sono delle sommosse là fuori due poliziotti sono in condizioni critiche e tu ridi tu ridi qualcuno è stato ucciso oggi a causa di quello che tu hai fatto lo so che ne dici di un'altra barzelletta? no ne ho abbastanza delle tue barzellette cosa ottieni? ho detto di no abbiamo finito con le tue barzellette basta e metti insieme un malato di mente solitario con una società che lo abbandona e poi lo tratta come immondizia chiama la polizia Gini te lo dico io cosa ottieni? chiama la polizia ottieni quel cazzo che meriti buonanotte e ricordatevi sempre that's life e ricordatevi sempre